In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli Tragedia nella notte a Isera, Emanuele Campostrini perde la vita a soli 21 anni. L'auto è finita contro un muro e il giovane è stato sbalzato a metri di distanza. Feriti, non gravi, due i suoi amici. Agricoltura e il trentino oltre 430 persone vogliono lavorare nei campi. La gestia del lavoro, metà a meno di 27 anni, ma domanda e offerta faticano ad incontrarsi. Politiche 2022, campo base a Fossa, l'alleanza larga con il PD. Non ci sono più le condizioni. Crisi idrica dalla presenza d'acqua alla sua completa assenza. Il lago di Limides a distanza di un anno. E' morto Piero Angela, l'annuncio del figlio Alberto. Buon viaggio papà. Addio al grande giornalista e divulgatore scientifico. I difetti visivi sono tanti. Miopia, stigmatismo, ipermetropia. Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam. Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista e poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te. Scopri di più su GlamVision.it